Semplicissimo, guarda anche il cazzo. E' un grande e rammatico. L'Italia non l'abbiamo avuta, non l'abbiamo avuta. Abbiamo avuto la ferocia e solo tutti oggi assistiamo all'utilizzo della politica e della storia. Questo che ci dico. Perché l'Italia è l'occasione per capire i documenti, per capire le posizioni. Come saremmo stati noi in questo momento? Che cosa avremmo fatto in questo momento? E' facile oggi le leggi ed è facile siano tutti oggi che le leggi si seguono in questo momento. Grazie. 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 Questa è la medaglietta. Poi da qui vai e vedrai quello che c'è dentro. Grazie di tutto. E pensa che la stessa cosa. L'altro giorno mio amico, appunto, Aldo Rigopi, mi ha fatto vedere un filmato che ha utilizzato anche il nostro presidente di consiglio. Ma c'è me lo faccio. Sì. Paola Deltin, sorella di un partigiano caduto dell'Osoppo, quindi chi conosce la storia sa tutto, ha detto le stesse cose. Italia, Italia, soprattutto Italia. E in questo nome, e in questo grido, e in questa promessa che noi continueremo qui a Milano, nella Grande Milano, onorare i nostri caduti e guardare avanti con ottimismo i socialità di cuore. Grazie a voi. Grazie. 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 No, non bisogna dirlo, perché è successo. Quello è il fatto. Grazie. Tu ti sembra un po' così anche. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.